Dividiamo com'è corretto i termini della discussione. Un conto è questo coordinamento, questa rete che è esplicita nel volere essere un soggetto che vuole diventare permanente e che vuole porre delle questioni, dei temi in discussione a tutti, in primo luogo alla città, alle forze di sinistra, di centrosinistra, alle forze sociali, perché no, anche a chi si confronterà nelle primarie, ma che non si pone in quanto tale né come un nuovo partito, né come un soggetto che vuole stare dentro quel contesto, tant'è vero che mette insieme soggetti che hanno già deciso di stare dentro il campo delle primarie, come componenti del Partito Democratico, in particolare l'Aira Civati, citava prima in trasmissione l'On. Luca Pastorino e altri che invece hanno posizioni anche radicalmente diverse rispetto anche alle primarie o allo stesso centrosinistra. Quindi da questo punto di vista no, la finalizzazione dell'iniziativa non è quella di costruire condizioni per candidature o altro, ma è quella di influire.